Oh ragazzi, ciao bene, sono richiesto da giù, tu con la mia ancora, allora farò che la chi entra a casa che è andata in giro, e niente, sono scappato oggi dalla casa che è andata in giro, sono stato stamattina giù a Porto Ancona, capito, c'era la vangulara che è arrivata e è tornata, sbarcata a Porto, c'era un sacco di pesce, ho comprato uno sfragiello, ho comprato uno sfragiello di pesce, tutto quanto, e niente, poi l'ho portato lì, si entra la casa grande al giro, ce l'ha fatto il soggetto, spettacolo proprio, il soggetto che te la tele, porco un mastino, o bene, eh, un attimo, è parte del embolo, capito, eh, ma ci vuole un attimo, un attimo, è un che altro, è vero, più stessa, ancora il pesce, ho bene, questo pesce ragazzi, se l'ho preso giù al Porto Ancona, dai pescatori, l'ho portato qui, entra la casa grande al giro, ho dato cuocano, io ho manato, quello normale, poi l'ho fatto il soggetto, il spettacolo, e ragazzi, ma è questo che, questo che, è grazia che sono giù, tu belli, ma è, ma è un pesce, che mi hanno capito a testare pure, pure il pesce, il piatto della tele, della tele, porca mastina, buono per poco il pesce, il spettacolo proprio, ce l'ho bene, mangio perché sono una cosa preferita, un attimo, è parte del embolo.